Magazine in blu 2000, estate in diretta da Rimini E allora ci siamo pronti a partire per questa estate 2021 lunedì 2 agosto in diretta da Rimini con Max Alberici, Simona Mulazzani, Matteo Monaretto in regia Magazine in blu 2000, estate Ciao Simona, ben ritrovata Buongiorno Max, è passato giusto un anno Simona ancora non hai capito tutti i giorni dalle 10 alle 13 per tutto il mese di agosto noi siamo in diretta da qui, su in blu 2000 con il nostro programma Magazine in blu 2000, estate Di cosa parliamo? Ma di tutto, delle Olimpiadi, dei magnà di cose varie, di eventi Everybody needs somebody siamo partiti alla grande con i Blues Brothers voliamo subito a Tokyo Ah sì, assolutamente perché ieri ci siamo così presi due ori, lo hanno fatto per noi sapevano che dovevamo iniziare quindi già noi non siamo grandi esperti di sport anche se io devo dire che sto guardando degli sport e delle Olimpiadi di cui non so assolutamente nulla non so le regole ma mi piace solo guardare che cosa stanno facendo questi atleti tra l'altro atleti assolutamente che arrivano da paesi che non so neanche dove siano e questo è meraviglioso perché le Olimpiadi sono questo e tanto altro Tutti i giorni dalle 10 alle 13 lunedì e venerdì per tutto il mese di agosto in onda con Magazine in Blu 2000 estate Bravo, ci siamo, ci siamo e parleremo di tutto vi terremo compagnia tutte le mattine 10-13 Magazine in Blu 2000 estate in diretta da Rimini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.